Vi ricordate Blu e Joyelle, i due pappagalli blu del film Rio? La loro storia era stata ispirata da quella dei pappagalli Aradispix, chiamati così in onore del naturalista tedesco che nel 1817 li scoprì. Originali dello stato brasiliano di Baia, di Aradispix sono sempre stati degli uccelli molto rari, ma nel corso degli anni la deforestazione e la caccia per il mercato nero hanno portato alla loro estinzione in natura, ufficializzata nel 2000. Fortunatamente in cattività ne erano rimasti alcuni esemplari e gli enti si sono impegnati per il loro ripopolamento, tant'è che finalmente, dopo 20 anni, è stato possibile liberarne alcuni esemplari nelle foreste, ma le sfide per la loro salvaguardia non sono ancora finite.